Sì, giochiamo una partita come tutte quelle del campionato italiano molto complicata. Primo perché Roma è una squadra nuova, una squadra alla ricerca di punti per avere quella tranquillità per affrontare un campionato sereno. Sappiamo che hanno delle individualità comunque molto importanti. Io conosco bene l'allenatore perché ho lavorato insieme a lui a Piacenza e so quanto ci tiene a preparare nel dettaglio le partite. Da parte nostra dobbiamo mettere via tutto quello che è stato l'inizio del campionato e adesso dobbiamo iniziare a trovare quella continuità che stiamo ricercando partita dopo partita e prendere un pochino più di fiducia e di serenità nel corso appunto del campionato. In difesa stiamo secondo me facendo già delle grandi cose. Non è la prima partita con la Coscandici dove abbiamo tenuto tanto. A mio avviso penso che quella contro Conegliano è stata addirittura più qualitativa sul reparto di difesa. A muro dobbiamo crescere di più perché è un fondamentale su cui lavoriamo tanto, su cui cerchiamo di focalizzare molto la squadra. Abbiamo fatto abbastanza bene contro Scandici ma sono gli avversari che affrontiamo adesso che dobbiamo affrontare con il massimo della determinazione, con un ordine e una correlazione muro-difesa molto attenta perché altrimenti rischiamo di incappare in quei gap che ci hanno contraddistinto da inizio stagione.